ma non mi guarda la mamma di ogni fattina in pirata e fatine pirata 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 che ho fatto attagano ma non è il nostro canale. Questo è il nostro canale, non è il nostro canale. Tutto semplice. Il nostro canale è di bila adan. non ci sono ragazze che sono ragazzi Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mi tagada si da falala nghalude, ka pesi bukudo. Yalto halala minhali, ko mi yalta li mihali fia. Tutto semplice. Se ti è adepto che hai di voi, ma che accorciano i miei, che ci sono i miei, i miei, i miei, i miei, Tutto semplice. è il repita in cui lì mi ho 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 lì non un po' maffaggiano che non un po' maffaggiano non un po' maffaggiano non un po' maffaggiano non sono detto niente ma non andare non arriviamo dire che ci saranno quello che fa e quindi non ci succedere non vieni non vieni e non vieni non vieni sa sai la cara volevo non per non 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 ma 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 C'è cosa che hai detto? Io voglio cercare. Io voglio cercare, evitare una ruota. Non ho bisogno di ruota. Ma quello è che mi ha consigliato durante due anni. Non davvero il nostro canale, perché non ci sono più grosse cose. Non ci sono un po' di più, ci sono un po' di più. per favore nelle migenzevatore. non c'è. Io buttavo bene bene come fornire le tessere di Barry White, e questo ciò chiede. Alla così, a te dire, come vai. Quando il tessere gli pensi che non puoi neanche fare nulla cosa, perché tutti gli erano, perché noi gli erano con il mio nome. Non, 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 non. La chiudere è, la chiudere è maggiore. Non c'è nessuno della popularità. Tutti i le anni che faccio, non ne può fare per la popularità. Ecco vive che faccio. Ho scegliato in Hollywood. Ok? Ho scegliato in L.A. Non, 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 non. Io sono ioupilani che io credo, mi ci sono i arcari. No, mi mi è forte, io sono i covotati, lo sto a fatto in un lavoro. Ma non ho mai sentito il bambino. Non questa cosa, non ci sono i colpi. Tu sei che è in giù a te convii, non ci sono i colpi, non ci sono i colpi. che sia la verità. Che stavano vi, che non sono più felice, ma è una sola cosa. Ma io non mi prendo la tua vita, perché mi prendo la tua sua età. Ma io non mi prendo la tua tua, non mi prendo la tua cosa, ma io non mi prendo l'unico. Sì, immaginazione, non è successa. Sì, prima ricorda che ti sono state salita di loro, se non ci sono state salita, la prima cosa che ci sono state, le persone che non sono state, oggi non so, ma un mò con un antiton mi hai fuso a cala talan mi ho comi cala l'ikarezo su sciolo ai dò zè nga mo ai dò zè nga un kà ufff, vremasi bia e sape bia usipu lukora e apre mini e apre don't try me la u woppe gobe ese ya ka mkonsei ma l'on desang anana nalilang mi yaltali sabir mi woli hai fuso fi honno kwa watun emprive l'ombre son belè mandè harapandakla nian de barini dala wò si mi arri ronako sikurakon c'est moi qui te le dit taiko honno fattu nyele en wò ma poussoude djouni parce que ben non wani honno groupuma honno et auto méfisdohaimè a l'ahalu de indema kondè ma poussoude arrêt parce que moi j'ai peur de personne pas sur les réseaux sociaux mi anadou mi jelou min ekuntiki mon facebook han me ndo me ndari korakor ogor kanko y groupma konfok mi depo goto mi depo goto mi depo goto o tayo mo achandon tayo nanko an mi anda honno me heba tabito mi depo goto mi depo gto m mik mi in the sky mi mi saì quel sto fare i poteressi la sotto ma la conoscenza della video perché mi ha fatto I accesso il Facebook e facendo me mi fa male non 있다는 lo e come vede ok, che è la parte della conoscenza la conoscenza ma non è il fatto perché io mi perdono chanelma la idea taxe lambe con la nata mette di freddo vittorna taxe l'amena famiglia del campo milano pima non c'è nessuno No. Si c'est la carta, Raffordiamo che non lo so. Ok? Non c'est perché non così li ho parlato dei nomi, Quindi ho veduto delle persone, ma mi raccolti che l'onise a un video. I can take my phone right now babe. I'm sorry. Ma non la non ditevo porque enough is enough. mi hanno fatto che ci sono i video di apperti su colmo mi ha lì mi vuorikenda mi yae bobo mi vuon dirì e alla takut olamon e mi vuon dirì e pittè amè d'nayonon e mi gio kibing ma non mi non mi vasto e attuare il video vasto nanu o di oon o no di l'an o no di l'an prive ogni a ogni sista mi idu no koni mi vuon dirì ta gila ngullude ta gila ngullude mi ne e vasto koni koni vuon dirì o no che sista mi o no mi no di te dioni o a partiti da l'accoglipino di l'an parce que moi je t'ai pronti l'an j'étais là je pleurais parce que a was dispoinné j'ho matandepasa ok j'ho matandepasa vasto yè futi video tu yime vè futi ilan nuzude e vasto no waddi video kontur o no vasto no waddi kontur o da minuti kapidio o yachali miwindanimo o yachali miachanimo o yachali miachi hao gani kanko e Allah himu andi kuhonu milyoti moko minuti muka video mili kala anduto hila hati ude karensu sisi odoo na hila wakti tuba mi hali fi ata kuwa karensu sisi watabani do alu fasa fasa inahali kwa ameni the fuck kodomi tu semploma kala anduto hila mara lila min halikou min min so tiki sudi harako affattu engal mangal kumihal halikou hasko hono foto kodom antokira aru pibliya jono lalabi mula minota hono karamokob bengkagi kono andi komani arabeno pasesimi arali vengon hono misulata me wula donko apela mihala no mua insu 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 resta clare mi calco mi andy mi ha li ko alla mone halende calco mi andy ammio mi susa tavolo di yes ma mi ha la taba oma tu samploni semi andyvono mi susa tavolo di amm yes ma ammone ammone adresa de on mi ha la taba oma wala donku andyvono yal tabe no ya hai honno e odioji ma e gruppoji hekka ko hekkiwo mini khalafala dola min aru wala owa life wala indian ning ntara koumuffe eka ntara koumuffe eka wala koumuffe c'est pour tout on a tenu la koumuffe eka wala koumuffe eka la première fois koumuffe eka koumuffe eka koumuffe eka uonandar ondo A tutti i arabi sono benvenuti in linea, ma non è una cosa che voglia di fare, ma non è un po' di telefoni, ma non è un po' di video, ma non è una cosa che vuole, ok? Quando mi ha le, la prima volta è ripetere solamente una terna prima, perché io devo dire che mi arriva a un po' di me, io sto l'indico, mi ne parla anduno. o kille educa da ma the happy goodly wanna me cale come had had to do you know yet what are you wallah indian day harapan inaki to simple man to simple man are a sono andate i miei chi ha capire tanto è tanto ma le donne i amici la festa e Grazie per la visione!